Descrizione del programma Kaspersky è un programma tra i più famosi programmi antivirus e di un forte concorrente per mesi gli altri programmi di protezione. Come Avast e Norton ai programma VG è la vera e molto di più. Kaspersky ai primi posti tra lui e altri software antivirus è superiore alla maggior parte di loro. Il programma Kaspersky è una versione gratuita del programma e adatto alla maggior parte degli utenti di computer e protezione online. Secondo le statistiche della società produttrice del sito, il programma funziona su oltre 200 milioni di dispositivi in tutto il mondo e il programma 20 anni di esperienza lavorativa nel campo della protezione e sicurezza delle informazioni. Kaspersky offre molti strumenti del programma di protezione di Kaspersky e ha la possibilità di proiettare l'intero disco rigido in una sola volta. Ti dà una protezione completa da virus che entrano durante la presenza e navigare in internet impedisce l'ingresso di file dannosi per il proprio dispositivo e intrusioni. Kaspersky anche sul programma che ha un importante strumento per aggiornare il software che è stato installato sul computer e dichiarire la Lada era vecchio o nuovo. Il famoso e noto a livello mondiale programma Kaspersky-HMH un sacco di persone in tutto il mondo è l'unico che ti dà una protezione completa attraverso il computer, soprattutto quando si naviga in internet. È un programma vincente Kaspersky sui riconoscimenti internazionali nel campo della tutela e della lotta contro i virus di ogni genere come guadagnare la fiducia grande e spaziosa per l'utente. Il Kaspersky vi protegge da tutte le minacce virali di ogni tipo è un programma che elimina i virus direttamente a lui e una volta che la pressione sul tasto di Bode esame per trovare ed eliminare i virus e dirigere l'esame complessivo del dispositivo dopo ogni attività che hai fatto per scaricare il programma fare clic sul link in fondo del video.